Il Paradiso, trame 20 e 21 novembre, Agatha disapprova il comportamento di Matteo. Nelle puntate del 20 e 21 novembre del Paradisi delle Signore 9, Agatha disapproverà le azioni di Matteo nei confronti della sorella, mentre sua madre e suo padre si accingono a partire per la Francia. I puglisi vorranno parlare con Maria, informandola delle confessioni di Silvana. Concetta vuole andare in Francia per parlare con Maria, un'anonima missiva tra le mani di Mario. Nell'appuntamento di mercoledì 20 novembre si vedrà Silvana assumersi la responsabilità di quello che è successo con Matteo. Il ragazzo, infatti, si è lasciato abbindolare dalle parole del genitore, mettendo in atto delle azioni disdicevoli nei confronti di coloro che si fidavano di lui. Basteranno le parole di Silvana ad appianare la situazione? Poco dopo, Concetta si accingerà a partire per la Francia per parlarne con Maria. Nel frattempo, Elvira continuerà a rimuginare su una possibile gravidanza in corso, ma senza informare Salvatore. Quest'ultimo, noterà come la ragazza ultimamente sia distante e si chiederà cosa le stia accadendo. Spazio anche a Giulia, che Umberto estrometterà da un importante incontro di lavoro. Sarà udile attendere una mano verso la stilista. Adelaide, frattanto, consegnerà una missiva anonima a Mario, contenente delle parole negative verso una persona. Agatha non perdona Matteo, Salvatore scopre la possibile gravidanza di Elvira nella puntata di giovedì 21 novembre. Ciro accetterà di accompagnare la moglie in Francia, dove proveranno a far riconciliare Maria e Matteo. Prima di partire, però, i due coniugi metteranno Agatha al corrente della vicenda. La sorella di Maria, disapproverà il comportamento di Matteo. Dopo aver letto la lettera. Clara dovrà aiutare Alfredo in un lavoro, per questo motivo informerà Jerome che dovrà dedicare molto tempo al magazziniere. Spazio anche a un tormentato Tancredi, che vorrà distruggere il marchio del paradiso. Nel frattempo, Marta ed Enrico saranno a un passo dal baciarsi. Elvira, romperà gli indugi e informerà Salvatore che forse potrebbero diventare genitori. Ipotesi, Maria perdona Matteo ma lui si consola con odile la mossa di Silvana potrebbe rivelarsi decisiva per la love story di Matteo e Maria. Due giovani erano in procinto di convolare a nozze, ma dopo aver appreso la verità sulle azioni di Portelli, l'ex stilista del paradiso lo ha lasciato. Sarà così che Silvana chiederà a Concetta di non incolpare Matteo, raccontandole tutta la verità su ciò che è successo. A questo punto, in tenerita della donna, la madre di Maria potrebbe riuscire a convincere la figlia a perdonare Matteo. Non è da escludere che quando Maria deciderà di perdonare il suo ex, sarà ormai troppo tardi. Matteo, infatti, potrebbe consolarsi con odile.